Vivarini, il direttore di Giuseppe ha detto che il tecnico Vivarini deve restare a Teramo. Il diretto interessato cosa risponde? Ci sono tutti i presupposti. È chiaro che io mi trovo bene a Teramo, non ho avuto problemi in questi due anni. Adesso ci sediamo con il direttore, con il presidente per fare le cose sempre molto seriamente come abbiamo sempre fatto in questi due anni. C'è da redigere un programma nuovo, ci dobbiamo dare degli obiettivi, dobbiamo pianificare il progetto tattico. Però è chiaro che in questo momento qua ancora dobbiamo parlare, ma penso che non è che ci manca il tempo per farlo. Cosa potrebbe accadere per far ripensare Vivarini ad una firma con il Letteramo? Può succedere di tutto, però poi questo mi si è trasformato sul fatto che io non sto bene a Teramo, che io ho problemi col presidente, che io ho qua. Non tutto questo, però nel calcio non bisogna, fin quando non si pianifica tutto, non si mette nero su bianco tutto, è chiaro che può succedere sempre l'imponderabile. Quindi noi l'accettiamo con tranquillità, però con la consapevolezza di quello che ho detto prima, della volontà che c'è. Lei ovviamente risponderà sicuramente di no, ma dal giorno della promozione oggi ha ricevuto qualche chiamata? Il calcio è uno sport straordinario, ti riesce a dare delle emozioni, ti porta alle stelle molto facilmente, come è successo al Teramo quest'anno, quindi di conseguenza quando si fa bene ci sono tanti attestati di stima, però effettivamente di concreto, di cosa, nientri. Qualcuno dice che l'esonero di Baroni e l'arrivo di Oddo sulla panchina del Pescara potrebbe avvicinare Vivarini alla panchina del Pescara per il prossimo anno. Ma sono tutte fantanotizie, insomma tutte cose così. Però Vivarini è stimato dai dirigenti del Pescara, questa non è una fantanotizia. Ma guarda, io l'ho sempre detto, io sono nato a Pescara, sono stato tanti anni a Pescara, sia da giocatore, sia da allenatore. Anche come allenatore mi sono perfezionato lì, quindi è chiaro che i rapporti sono ottimi con tutti. L'ultimissima, si parla anche un po' di questa gara con la Sernitana, insomma alla Rechi inizierete ad assaggiare la Serie B? Sì, andremo a giocare in uno stadio dove si fa calcio vero per i tifosi che hanno, per lo stadio, per come è strutturato. È veramente qualcosa di fantastico giocare in quel campo lì con quei tifosi. Noi abbiamo avuto la fortuna l'anno scorso di fare una gran partita lì e secondo me sia io che la squadra ci teniamo a fare una gran partita. Speriamo di riuscire a fare un risultato e speriamo ancora una volta di mettere in evidenza le nostre qualità, anche se è chiaro che le motivazioni e le attenzioni del campionato sono un'altra cosa rispetto al momento attuale che ci troviamo. Grazie a tutti.